Ciao, sono Pietro Augelli, ho 41 anni, co-founder di No Limits Generation. Perché No Limits Generation e chi è No Limits Generation? Inizio per dirti che sono una persona normale, una persona come tante altre che conduce una vita normale, una famiglia, una casa, un lavoro, due bellissimi bambini che tra l'altro saluto, ciao Matteo, ciao Riccardo, insomma una persona normale che un bel giorno ho decise di diventare una persona straordinaria. Circa un anno fa mi sono imbattuto nel sistema del network marketing, un sistema incredibile, un sistema perfetto di cui io me ne innamorai subito, anche perché la sua etica sposa la mia. Pensare di poter aiutare tante persone come me a realizzare i propri sogni, i propri desideri, realizzando indirettamente i miei era qualcosa di incredibile, era qualcosa dove da nessun'altra parte ho trovato. Sicuramente te che stai guardando questo video sai di che cosa sto parlando, sai che il 96% delle persone che intraprendono questa strada molla dopo sei mesi un anno. proprio perché magari non hanno le giuste competenze, proprio perché non hanno avuto risultati sperati, proprio perché trattano il network marketing come un hobby. beh, allora volevo dirti che a prescindere da se fai network marketing o qualsiasi altra cosa, se vuoi avere dei risultati concreti, devi immaggerti al 100%, non puoi pensare di farlo al 90%, tutto questo non funziona. Volevo dirti ancora un'altra cosa, però non volevo spaventarti, perché oltre alla teoria c'è bisogno della pratica, quindi la pratica per me è No Limits Generation. Chi è No Limits Generation? Immagina di far parte di una squadra di 11 campioni, i campioni di sempre. Capisci subito che la partita è già vinta in partenza, perché loro sanno come giocare, loro sanno come segnare, loro hanno le giuste competenze, l'esperienza, la professionalità per farti vincere. Quando mi venne presentato questo progetto, mi vennero presentati i fondatori, io ne rimasi colpito, anche perché alcuni di loro già seguivo sul web. Desideravo tanto comprare un loro corso oppure un loro prodotto. Beh, adesso io ce l'ho gratis. Adesso parlo a te, a te che sei una persona normale come me, una persona che vuole raggiungere un proprio sogno. Posso dirti che sei al momento giusto, al posto giusto, ma soprattutto col team giusto che farà la differenza. Noi di No Limit Generation non stiamo cercando persone da reclutare, noi stiamo selezionando le persone. Perché No Limit Generation? Perché è la squadra che hai sempre sognato avere con sé. Perché loro vogliono lasciare un segno profondo nel network marketing. Il mio consiglio è quello di salire a bordo e di far parte di questo meraviglioso gruppo. Ciao e No Limit Generation forever!